Oggi vi andiamo a presentare questa nuova scheda molto versatile che ci permette di gestire fino a 6 servomotori. Ogni servomotore è gestito da un apposito potenziometro che ne permette il controllo. Quindi possiamo entrare nella modalità di registrazione e registrare il movimento che più ci piace. La scheda registerà sia il movimento che effettuiamo, sia la pausa, sia la velocità con cui effettuiamo il movimento. Quando abbiamo registrato il nostro programma possiamo andare a riprodurre. Possiamo registrare fino a 4 programmi diversi e andarli poi a riprodurre. Questo per esempio è un esempio che abbiamo registrato prima. Che lui lo riproduce tutto e poi torna in pausa. Volendo abbiamo anche la modalità loop. Quindi una volta che viene riprodotta la memoria viene riprodotta di nuovo all'infinito. Questa è un'altra memoria che abbiamo registrato. Questo è effetto occhiolino. E durante ogni memoria possiamo sempre ritornare in posizione centrale. Ovviamente ogni memoria può essere richiamata o dai tasti o abbiamo anche il corrispettivo su mosso e tira per collegare un telecomando per esempio. Abbiamo un'altra cosa interessante, lo slot per la memory card. In maniera tabica e se noi abbiamo differenti spettacoli possiamo creare una memory card per ogni spettacolo con dei diversi movimenti. Grazie.